Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa penultima puntata nonché la settima puntata del Friday Feel. Dico penultima perché ancora abbiamo un'ultima puntata che è quella di venerdì prossimo sempre alle ore 18 e poi abbiamo la puntata speciale ovvero l'ultima puntata che racchiude praticamente tutta questa seconda serie del Friday Feel. Comunque non perdiamoci in altre chiacchiere, nella puntata precedente abbiamo visto... Bene, mandiamo la sigla e partiamo con la settima puntata del Friday Feel. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.